29 novembre 1976 un gruppo armato composto anche da Roberto Sandalo e Marco Donat-Caten assalta la sezione dirigenti della Fiat di Torino Nasce così Prima Linea organizzazione terroristica in cui confluiscono giovani di lotta continua, autonomia operaia e di altri movimenti per numero di omicidi sarà seconda fra le sigle terroristiche della sinistra solo alle Brigate Rosse